Carnevale di Larino, ancora due giorni per ammirare otto giganti di cartapesta in movimento che sfileranno lungo le vie del centro frentano dal pomeriggio di sabato 29 febbraio a tutta la giornata di domenica 1 marzo, un evento premiato anche quest'anno da un ambito riconoscimento arrivato dal Ministero per i beni e le attività culturali, quello di Carnevale Storico d'Italia. Tecniche sempre più affinate, qualità artistiche, un impegno totale da parte dei gruppi costruttori che non fanno altro che rinnovare l'invito a partecipare. Tanti temi delle allegorie che spaziano dall'ambiente al sociale e all'attualità impressi nei carri, alti diversi metri tra luci, colori ed effetti speciali. Sabato la manifestazione sarà ripresa in diretta a Facebook e condivisa su Instagram anche dallo staff nazionale di Carnevale d'Italia, una realtà che segue gli eventi più importanti e caratteristici della penisola e non solo, un percorso di promozione e supporto alla sfilata condiviso dall'amministrazione comunale e dall'associazione Larinella che hanno dato impulso a numerose iniziative. La sfilata sarà accompagnata da diverse attività dedicate alle famiglie e ai bambini, musica, animazione, trucca bimbi, clown, giocolieri, spettacoli di magia, area street food e gonfiabili, ancora visite guidate al parco archeologico e molto altro, gran finale domenica sera con la premiazione del carro vincitore e della migliore coreografia dei gruppi di ballo e delle maschere. Grazie a tutti.